Noi abbiamo delle accademi fisse e continuative in Asia, quindi Cina, Giappone, Sud America, Argentina, Brasile, Colombia e Medio Oriente, siamo in Arabia Saudita. I Summer Camp sono una parte di questi progetti che hanno una logica più continuativa. Parlando invece di Summer Camp, rivolti a nuovi potenziali partner, quindi come in questo caso, in Bulgaria. La prossima estate, svolgeremo anche altri campi in Grecia. In Belgio, in Giorgia, in Giordania, in Giorgia. E stiamo valutando dopo l'esperienza in Slovakia, e forse anche in Croazia. Quindi questa è attività più spot, hanno una logica conoscitiva. E tessi campi hanno un'esperienza da comprensare le progetti continuativi. Sì, come dicevo, in ogni di questi campi stivi chiederemo circa 4 giocatori più meritevoli, non i più bravi, sotto lini più meritevoli. Quindi i più educati, quelli che si impegnano di più, quelli anche che sono bravi in campo, per farli venire a Milano fare un'esperienza di un fine settimana. Come dicevo, nella nostra città è, in questo modo, in cui, iniziamo 4 giocatori, e le regole europee del calcio valuteremo se magari vederli a Milano per un'analisi più approfondita insomma ecco. Ako ima i altri amici, mi chiediamo i tia da imbriamo внимание, se spaziamo i problemi per il premezzo di una o in un'altra regione, a iunositi da un'oprede lento. A conosciamo un pochettino tutto il calcio giovanile europeo, sicuramente la Bulgaria ha delle grandi potencialità dal punto di vista tecnico. Noi siamo qui per cercare magari di aiutare a livello formativo i allenatori a crescere ancora meglio i giovani calciatori locali. Noi siamo qui per cercare i treniori da insegnare i bambini i bambini, a formare i futbolisti. No, ma perché? Perché sono qui in Bulgaria? Perché, come dicevo prima, è un paese che ha una grande tradizione a livello calciistico. C'è una relazione interessante con il nostro paese, ci sono diversi italiani. E quindi rappresentano in Europa uno dei paesi che abbiamo approcciato nella prospettiva di fare questo tipo di test. E voi stessi una strana, in cui siamo chiamati da fare questo tipo di test. Bene, grazie, grazie. Grazie